Scadenze fiscali in arrivo? Nessun problema. Con l'app Mediolanum potrai pagare in pochi clic anche tributi ed F24. Accedi all'app e seleziona il conto dall'home page oppure scegli la voce Conti dal menu laterale. Fai tap su Opera e successivamente su F24, scegliendo il modello tra quelli presenti in elenco. Compila manualmente le sezioni relative al contribuente e al motivo del pagamento. Nel caso di F24 semplificato si potrà scegliere se compilare il modello inquadrandolo con la fotocamera. Infine potrai decidere se salvare il modello tra le bozze per effettuare il pagamento successivamente o controllare e confermare l'operazione con l'impronta digitale, il riconoscimento facciale o in alternativa i codici di sicurezza richiesti. Una notifica ti informerà dell'avvenuto pagamento e potrai comunque consultare i dettagli dell'operazione nella sezione Operazioni effettuate F24.